Ben ritrovati i telespettatori del Tg8 a questo approfondimento del fatto, questa sera parliamo ancora di politica regionale, lo facciamo ancora ascoltando uno dei protagonisti della prossima competizione elettorale, un soggetto che sarà in campo nella coalizione che sostiene Marco Marsiglio e che la Confederazione Regionale Futura, che poi sta dando luogo insieme all'Udc e anche altre componenti come noi moderati ad una lista centrista, salutiamo e ringraziamo Gianfranco Giuliante che è coordinatore regionale di Futura, buonasera, allora Giuliante, cantiere attivo, vogliamo chiamarlo così, quello relativo alla componente centrista che sosterrà la ricandidatura di Marco Marsiglio, a che punto sono trattandosi di cantiere i vostri lavori? Io recentemente mi sono reso protagonista di un appello alle forze moderate abruzzesi, un appello che si è in qualche misura risolto con una lettera aperta che avevano diversi interlocutori, devo dire che ad oggi tutti gli interpellati e anche alcuni soggetti esterni che avevano letto sulla stampa questo appello all'unità hanno risposto positivamente, siamo solo in attesa della risposta che è l'unica mancante dell'Udc, speriamo, mi dicono che di Giuseppe Antonio è fuori Abruzzo per una riunione del Lance, stiamo aspettando che risponda, ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta, tenendo conto che domani a Pescara alle 17 è stato convocato il primo tavolo regionale per quello che riguarda l'area moderata, diciamo così, lì emergeranno sia la composizione delle liste che peraltro sono a buon punto, sia quello che sarà il progetto da mettere in piedi in Abruzzo. Lei in questa fase svolge anche il ruolo di portavoce dell'Udc, anche se l'Udc credo debba avere ancora dei passaggi nazionali più che territoriali da compiere rispetto alla procedura sulle singole candidature? Il problema è questo, sono venuto a conoscenza di qualche incomprensione che si starebbe consumando a livello nazionale tra le forze o alcune forze che hanno poi determinato nelle politiche il simbolo di noi moderati. La mia preoccupazione naturalmente è che queste incomprensioni si risolvano nel più breve tempo possibile e comunque non accetteremo il fatto di un condizionamento a livello nazionale che vada a rompre l'unità necessaria per partecipare con una lista che abbia una sua capacità di incidenza alle prossime regionali. Non è un caso che nell'appello facevo riferimento al fatto che è folle pensare a un campo minimo laddove la sinistra si sta ricombattando su un campo largo e è altrettanto privo di senso parlare di questo o comunque affermare la necessità di una sorta di mito di incapacitante che non consente in queste occasioni al centro di trovare unità. In questo processo lei è stato anche abbastanza chiaro, c'è un tema che non riguarda soltanto il varo di questa lista ma anche un po' il criterio di fondo che deve sorreggere l'alleanza. In qualche settimana fa si era aperta in particolare in relazione al caso Campitelli il tema della compatibilità delle candidature relative a esponenti che avessero cambiato gruppo consigliare, che avessero cambiato partito, che avessero cambiato forza politica rispetto a quella di elezione nel presente Consiglio regionale. voi avete sostenuto le ragioni del Presidente Marsiglio, tutti coloro che hanno fatto parte della squadra di governo e della squadra di consiglieri regionali di questa maggioranza non sono soggetti a veti da parte di altre forze politiche, nella sostanza ognuno si fa le sue liste. Sì, ci sono problematiche di natura giuridiche che in quell'intervento ho sottolineato che impedirebbero di fatto una sorta di veto su quelle che sono le candidature, ma c'è comunque un problema e ti ringrazio per la domanda, che probabilmente sarà oggetto di una richiesta che faremo di incontro di maggioranza, perché rispetto alle posizioni espresse non ci sono state risposte, c'è stata la Lega che ha reiterato questa sua volontà di non accettare candidature esterne e naturalmente questo insieme ad altre problematiche, c'è il caso di Ortona dove praticamente una strategia laterale a Forza Italia che però sistematicamente si riverbera in danno al centro-destra, è successo con Forza Chieti, è successo con Forza Avezzano, adesso sta succedendo con Forza Ortona, diciamo così segmenti di Forza Italia continuano a creare condizioni per le quali l'unità del centro-destra in un modo o nell'altro viene messo in discussione. Quindi questo, le richieste della Lega ed altro credo debbano essere oggetto di un approfondimento preventivo e anche per definire quelle che saranno le regole del gioco, una volta che le elezioni saranno terminate si dovrà comporre l'assetto istituzionale della Regione Abruzzo. Fatte queste premesse anche con la franchezza che l'è propria, detto questo ovviamente si va convintamente a sostenere Marco Marsiglio in questa ricandidatura. Quali sono a suo avviso i punti di forza di questa piattaforma politica che la coalizione metterà in campo come proposta per una nuova fase di governo dell'Abruzzo? Diciamo che la giunta di centro-destra ha dimostrato di avere un quadro di riferimento per la sinistra contestata e contestabile, ma credo che sia nelle cose e ha raggiunto degli obiettivi che sono importanti. Nel frattempo c'è stato anche un mutamento del quadro istituzionale a livello nazionale, c'è una filiera che consente con maggiore sistematicità alla maggioranza di centro-destra della Regione Abruzzo di interloquire con il governo e con le diverse espressioni, c'è una partita importante che va messa al primo punto che sarà il PNR e gli investimenti adesso collegati in tutti i campi che naturalmente sono in questo momento strategici per l'Abruzzo, quindi c'è molto lavoro da fare, c'è la possibilità di farlo in sinergia con il governo nazionale e credo che questa sia un'occasione da non poter perdere. Su Marco Marsilio in particolare qual è il vostro giudizio, vostro come rappresentante di una componente di centro, essendo lui il rappresentante del partito collocato più a destra nella coalizione? Credo che per certi versi Marsilio abbia dimostrato in molte circostanze, al di là del dato di provenienza, di essere più democristiano di molti democristiani, tacendo quando c'era da tacere, alzando la voce quando c'era da alzare la voce, ma sempre con un taglio abbastanza accorto. Il problema diventa non tanto quello dello stile che si vuole imprimere nella leadership di una regione, quando quello di verificare in termini di sostanza quali sono le regole del gioco alle quali tutti debbono attenersi. Spesso e volentieri alcuni episodi che adesso sono anche oggetto di discussione, di contestazione e via di seguito, il capo delle casacche, in parte è dovuto al fatto che mancando probabilmente delle regole del gioco che fossero stabilite a monte, si sono create a valle delle disfunzioni che per questo debbono essere affrontate prima del risponso elettorale del prossimo 10 marzo per chiarire quali sono le regole del gioco alle quali tutti debbono attenersi. Continuo a sostenere per quello che ci riguarda, non esiste un discorso che riguarderebbe i veti sulle candidature che noi mettiamo in campo. Questo mi pare abbastanza esplicito. Invece un giudizio sull'altra coalizione, sul fatto che siano uniti, che ci sia questo campo largo, larghissimo, che ci sia anche la scelta di questo profilo di candidatura. Luciano D'Amico, lei conosce ovviamente, essendo stato anche il suo successore alla guida di Tua. Chi si occupa di politica ha visto che la gran parte delle forze che adesso hanno costituito e costituiscono il campo largo, hanno opinioni diametralmente diverse, esprimono strategie che non sono per certi versi compatibili e hanno dovuto scegliere il dato minimalista della contrapposizione al centro-destra per creare una sorta, tra virgolette, di unità. Naturalmente questo in politica normalmente non paga, può funzionare nella fase nella quale bisogna fare buon viso, ma nel tempo queste dicotomie implodono. Devo dire che ho apprezzato per quello che mi riguarda per esempio il passaggio che ha fatto il Rettore D'Amico, laddove ha detto che voleva fare la lista del Presidente andando a scegliere tra il volontariato, tra il mondo giovanile, individuando un campo nel quale aggregare la propria lista che è definito al di fuori dell'alveo di quelli che sono i partiti tradizionali. Per quanto riguarda invece il campo del centro, anche qui avrete concorrenza suppongo nell'offerta elettorale perché ci saranno le forze un po' più centriste della coalizione Patto per l'Abruzzo, mi riferisco ad Azione e di Tagliaviva, con la quale peraltro voi di futuro avevate avuto anche una interlocuzione nei mesi scorsi e ci sarà Forza Italia che si è caratterizzata come la forza principale, almeno in questa fase del consiglio terminale della consigliatura regionale. Qual è il messaggio che voi vi sentite di dare agli elettori di centro che consenta di differenziarvi anche nella credibilità e anche nella qualità delle candidature? Io onestamente ci sono profili di candidature che sono tra virgolette definibili attraverso una legge, ci si può candidare avendone le caratteristiche o non candidare, un pregiudizio a priori di quelli che sono i candidati non mi appartiene per cultura, ritengo ancora una volta che ci sono state e ci continuano ad essere nell'occupazione degli spazi politici dei meccanismi che spesso e volentieri sono molto elastici. Quello al quale facevo riferimento, cioè l'incontro con Futura, con in particolare Azione, con in particolare Italia Viva, avvenne nel momento in cui Calenda, Letta e Labonino definirono un accordo identificando lo spazio politico da occupare nel centro-sinistra. In quel momento di fronte a questo tipo di situazione e con le dichiarazioni di Renzi che dicevano mai con loro, io feci la telefonata ad Alessandro e organizzammo qualcosa definendo il luogo che poteva essere in qualche misura per entrambi spendibile un altrove possibile. Naturalmente per cultura personale, per storia, a me sfuggono quei meccanismi per il quale il segretario nazionale di un partito cinque giorni prima a bacio in televisione Letta e Labonino e cinque giorni dopo dice che sta contro di loro. E quindi mi sono ritrovato in una situazione di contesto in cui le spinte che dovevano essere in qualche misura non di sinistra avessero un loro sviluppo che nel tempo poi sta anche adesso maturando. Quindi diciamo lo spazio da occupare che è lo spazio dei moderati che in passato spesso e volentieri hanno dato quella soluzione di mediazione che era la più necessaria, l'attuale, la più attuale, la migliore in senso stretto perché in un punto la politica è l'arte della mediazione possibile, vuole essere interpretata da questo gruppo, da questo spazio che è una federazione di moderati. Ultima domanda, non posso esimermi dal farla, anzi la faccio volentieri perché è un tema di attualità politica proprio di queste ultime ore, relativa anche a quelli che sono i risultati, i primi risultati investigativi di un'inchiesta che ha nuovamente toccato la politica regionale in relazione alla sanità. Ci sono degli indagati, delle nuove figure però sono indagati in questo momento, non sono nemmeno rinviati a giudizio, però c'è un tema politico rispetto alla candidabilità degli stessi nei due schieramenti perché ovviamente sono soggetti ricandidabili sia con Marsilio che con D'Amico. Qual è il suo giudizio? Ho risposto prima implicitamente alla domanda. Ci sono le leggi che prevedono quando si può essere candidati e quando non lo so che può essere. Se coloro i quali decidono di candidarsi sono nel quadro per il quale possono spendere il loro diritto di elettorato attivo e passivo credo che non ci sia nessuna possibilità pur volendo se non affrontiamo il problema in termini di opportunità di essere candidati a una candidata. Dopodiché abbiamo visto nel tempo che tantissime persone che in una certa fase storica erano indagati poi ne sono usciti in modo clamoroso. Potrei citare tra virgolette tutto quanto quello che è successo con la giunta Chioti. Io ero tra gli indagati ma addirittura con i rinviati a giudizio che poi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Quindi se teoricamente uno si fosse attenuto a questa logica di una opportunità che spesso e volentieri viene tirata in balla a seconda di quello che è il soggetto oggetto di indagine non si sarebbe potuto ricandidare nessuno. La verità vera è che poi sono stati tutti quanti assolti. Quindi c'è una legge, c'è una previsione specifica delle caratteristiche che bisogna avere per essere candidati e quello è il secondo me il punto di riferimento che bisogna avere per non commettere errori e non fare il gioco di chi spesso e volentieri. A quando ci diamo appuntamento per la presentazione delle liste? A brevissimo, ripeto noi domani faremo un tavolo regionale e dalla settimana successiva cominceremo a comunicare il nome delle persone che già ci hanno dato la disponibilità alla candidatura. Grazie, grazie Gianfranco Giuliani, grazie ai nostri telespettatori e appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto. Buona serata.